Hoi boys, come state? Questo è il riepilogo della stream fatta sulla storia di Rocket League. Ovviamente ci sono solo i momenti salienti, perché sennò il video durerebbe troppo. E che altro dire, se non che vi auguro una buona visione e vi ricordo di seguirmi su tutti i social. Link in descrizione. Storia di Rocket League. Sì, non è questa roba qua. Vedi, Story Mod. Che mingi stai dicendo Story Mod? Ma cos'è la storia? C'è tipo un'animazione? No, è una modalità storia. Allora, che colore? Beh, è nero. Get started. Allora, oh, quindi hai ricevuto delle ruote? Ah, che cazzo smuglio, il video filter? Ah, ti diano la giusta cosa per competere al meglio? La tua macchina non ha nemmeno il boost. Devi guadagnare con i crediti per batteria. Pagni? Vediamo che cazzo succede. Ok, voglio dire. Ah, ma giochi anche. Sì, sì, io gioco. Ma non ho turbo. Ma il broccio da turbo? Può fare una speed? No. Mostruoso. C'è anche il gameplay. Fenomenale. Wow. Speed. No, adesso la palla per... Oh, com. Cracciotto. No, come crashato? Stavo primelaggando L'aereo lo vuole Cioè fa proprio pegare Oppure subito gold al bot perché devo capire Se si sentono dei rumori di sottofondo Ezz, che nonna Ok, fatto Se hai finito l'acciale hai guadagnato due money Ok Ah, puoi usarli per reclutare I avversari precedenti E customizzare i tuoi compagni Ah, vedete qua c'è tutta la mappa Ok, qua c'è tutta la mappa E adesso noi siamo tipo principali T-off boost Ah no, io mai eravamo a beginner's park Poi andremo, adesso siamo a Principal T-off boost, poi andremo qua Ah, vabbè dai, sembra fatto carino Sì, sì, questo mi piace al mio bro Ma ho subito gold No, minchia, le prendiamo Ah, che è, sì, se mi bumpi pure Dai, amico, aiutami Ce l'ho Bello E ho capito Bello pure senza turbo No, 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 no Vabbè, cioè, vola pure Mi sembra un po' esagerato Cioè Bello, bel passaggio, mai meno Bel passaggio Ti prego, non arrivaci Madonna, fenomenale Muogli una partita Tantacolo Ehm Che ammanto a prescrizione Aereo dal botto Ok Ah, vabbè, sì Ok, ho capito Eh, mi sembra un po' davvero tanto esagerato Ah, no Eh, sono il bellissimo passaggio, però Oh, bravo Oh, il turbo Oh, che bello poter usare il turbo Fino a 33, però Bello Ce l'ho Eh, sì, vuole arrivare No, ok Oh, amico Faccio vedere come si fa la goal Oh, ce l'ho Gol Oddio In alto a sinistra Voi forse non lo vedete Ma c'è scritto tipo Sticky Nizboost Dai, amico No Non la feo Eh, sì Non posso reclutare altri amici Sticky che ho visto che prima c'è stava Facciamo questo Fammi prendo solo sticky Olè Vai Uno Ehm Eh, mi dispiace Boys, allora Vi salto completamente questa parte Che è abbastanza noioso E uguale alle altre E passiamo subito alle cose più interessanti Questo è più utile, secondo me È uno skill Ormai il mio compagno ha chidato Eh, guarda quanto spammono i messaggi Oh, che bello avere tutto il turbo Ah, cazzo Un bel passaggio, eh Eh, che bastardo Ma c'è scritto avere un bot Era da ritiro, eh Anche questa è abbastanza easy Ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho Che fanno Vabbè, ok Ok, eccolo qua Oddio, i seeker Sì, ti prego Che figata Che figata Ah, eh, oddio Che bastardi giocato Ti va a far esplodere Eh, però adesso l'altra partita Non la parata Ma guarda che resta in volo Ah, chi, che bastardi Uno vuole far esplodere E l'altra è che vuole resta in porta Volare Ci vuole ben altro Che bastardi Che fa Che bastardi Che bastardi Che bastardo che la farna Eh Mi... 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 Ah Cioè davvero Mi... 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 Fai Questo Contatto Anco Guardo Di hollow Schilde ampa Un Puerta Il cazzo ! Cعم Acquavata Tadiamo Lo sede Testo Ho Dovato Daーチ Soma Aison Ma subiscono gol pure così no no ci sono cascato nella loro trappola eh però non è bastato ah autogol non ho parole vai para questo e slot autorecharge turbo buono vabbè è una cazzata anche questa partita ve l'hai detto che è uguale quella di prima solo uno contro c'è qualcosa di innaturale in questi bordi oddio ma siamo due di tre non prendere questo problema il rapporto per buon sito al corso l'ho tutto ma che c'è un busto di botte minuto portato il progetto attaccato mi faccio volare solo ma amico non ti fare autogono anche tu aria c'è il momento senso ma che cazzo ma volano ma letteralmente cioè puntuale non hanno manco visione del turbo non ha messo auto esibili ma non eravate ne sono abbastanza convinto da ma cosa è stata la proposta di paura non lascia atto del video si ma risponde lì ma non so ma giù vedi la cosa ho palesemente sbagliato l'agricolo lo so aspetta magari driblando che cosa mi fa la forca troppo è matrona subito importa oh dio madonna sono fortissime no che cosa è preso eh no stavolta no stavolta no no gc gc sono il coglione dei coglioni portato a valore un giocatore gc fan iniziali spixto che cazzo fai ma non figurati ma c'è posso vedere una roba del genere possono prevederlo ok il documentario madonna ti prego non subisco così non sono pronto a subire così che fa? aiuto sono uno di loro sono un bot e vado a vedere come si fa cosa speranno di non subirlo eccolo eccolo ma non ho niente da comprare no upgrade mi manca solo i rumble no che cazzo eh haici valuto che ci hanno stimati ok calma la lista in porta questo qui c'è gli scappi epiletti grazie per avermelo bumpato un po' sei un mito un po' che è sta roba dietro? per avermi tira non 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 c c c 2 eccolo 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 buon tira ce l'hai fortissimo bello dai ho dimostrato le mie qualità da gc vabbè però questi qua fanno davvero cagare eh mi aspettavo un po' di meglio della storia però dai cioè questo non è che ti puoi aspettare molto un gioco di macchine come il calcio carino comunque come te ah il titio è un botte invisibile no nemmeno lo vedo io neanche bene che cosa fanno postati aglio ah eh ho capito ma è sparito eh vabbè ma eh vabbè io ho pure i suoi poteri di rissa come idea carino eh ci sta però vabbè non è chissà che grande soprattutto se sei un minimo forte o comunque se sai giocare a sto gioco tipo no me ne accompagno se ci sei un minimo a giocare diventa anche un po' noioso perché davvero facile magari per cambiare un po' e non fare sempre solidera anche orfo 2 cosa so è simpatico è carino ma non è nulla di che nulla di che ah il cazzo se l'aspettavo si colpa mia colpa mia eh però io ho pure i tuoi della rissa ma non è nulla di che outplayato da un bot ho capito oh 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 porco tue non è nulla di che ok posizione di tryhard sono qua va a finire che facciamo una figuraccia la presa madonna ok 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 la rimontata al contrario bravo spostati che bastardo che si è talisato a loro c'è ma davvero ma orta calma calma a livello posto ma vabbè non ho usato di merda parola vado a perdere vado a perdere non ci credo vado a perdere vado a perdere vado a perdere c'è tutti gli orgogli assegnati 23 secondi per fare si per io faccio gagare faccio gagare delle cose postati no e la Ciao